Ciao, sono Betty dell'Ecoformazione 2021. Mi è piaciuto il fatto di ritrovarmi a lavorare in un gruppo con persone provenienti da formazioni e professioni diverse dalla mia, ma tutte accomunate dal desiderio di portare nella propria professione la riconnessione con la natura. Mi sono portata a casa nuovi strumenti, nuove mappe di lavoro che uso quotidianamente, sia nei percorsi di formazione che conduco con i gruppi, sia nella mia pratica di consulente educativa dell'area prima infanzia. Grazie, grazie a Marcella, grazie a Silvia e grazie a tutte le persone che lo scorso anno hanno reso questa esperienza molto ricca e molto simulante.